Il treno alto di velocità 384, 19, 3 d'Italia, nell'ora 13.20, proveniente da Venezia Santa Lucia, il direttore vicino all'aeroporto arriverà con 10 minuti di ritardo. Il treno alto di velocità 384, 19, 3 d'Italia, nell'ora 13.20, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno alto di velocità 384, 19, 3 d'Italia, nell'ora 13.20, proveniente da Venezia Santa Lucia, il treno alto di velocità 384, 19, 3 d'Italia, nell'ora 13.20, proveniente da Venezia Santa Lucia,